Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi ho il piacere di raccontarmi la mia visita al ARC Team professionisti dei simulatori di guida a Pavia e prima di iniziare voglio ringraziare quattro persone la prima è Andrea Rossetti che è il titolare, persona veramente geniale, una persona veramente gentilissima a disposizione, titolare di un'azienda con esperienza e con professionalità ha saputo indicarmi la strada giusta per scegliere i prodotti adatti a me e per questo lo ringrazio tantissimo, è stato anche un consigliere, mi ha dato dei consigli, sono veramente felice di averlo conosciuto perché è una persona veramente bravissima, una persona a modo, una persona molto disponibile e questo mi fa veramente molto piacere perché non è che si incontrano sempre queste persone qua e devo dire che ha anche giocato a volte contro il suo interesse proprio per consigliarmi bene e questo lo ringrazio veramente tantissimo, grazie Andrea, poi vorrei ringraziare a Dario che è stato uno anche dei primi contatti via social che mi ha indirizzato, mi ha consigliato e quindi lo ringrazio anche a Dario che purtroppo non l'ho potuto incontrare fisicamente e poi voglio ringraziare Alessandre e Andrea ragazzi che mi hanno accolto a Pavia proprio in sede Arc Team e li ringrazio veramente tanto e li saluto perché sono stati geniali con me ragazzi, sono stati veramente, cioè mi sono sentito a casa non mi sentivo in un'azienda o ospite, mi sentivo a casa con degli amici che discutevamo di simulazione e questo non ha prezzo ragazzi, non ha prezzo, quando tu ti senti a casa non ha prezzo allora arriviamo alla visita, così facciamo la cronostoria, quindi arrivo, Alessandro esce addirittura per indicarmi la strada dove entrare, si scende e poi entrate in Arc Team e vedete questo magazzino enorme dove ci sono degli scatoloni ovunque ordinati come si deve e iniziate a leggere dei nomi familiari Simmagic, Mozza eccetera, tutte queste cose qua, prossimo, poi iniziate a vedere una prima postazione montata dinamica poi vedete la parte del magazzino dove ci sono tutti i volanti eccetera, fighissimo ragazzi cioè sentite il profumo della simulazione, sentite il profumo dei professionisti e sentite il profumo di un'azienda dinamica che si è in movimento, un'azienda che non sta ferma, un'azienda che è in continua evoluzione e si sente subito anche il lato dei professionisti per quanto riguarda l'accoglienza dei clienti e soprattutto che vi sanno consigliare, vi spiego perché io sono arrivato con una richiesta specifica, ho detto io voglio la TrackRacer 160 io sono uno che quando decide normalmente vado dritto e voglio questo sedile, questa pedaliera, questo volante, questa cosa qua è possibile provarlo? Certo che si può Andrea, mi farò in modo tale che sia pronto e infatti arrivo e c'erano due postazioni c'era una TR80 con la P2000 che avevo richiesto con un sedile della Ferrari con il Simmagic 15 Nm con una corona eccetera eccetera insomma pronta per essere provata e dall'altra parte la stessa cosa però un po' più completa con però un 10 Nm ed una Invicta come pedaliera e con ovviamente un sedile stratosferico dell'Alpine ragazzi, bellissimo è un cambio sequenziale che l'ha buttato lì giusto così non si sa mai nella vita questa sala è già molto silenziosa con una mochetta, un tappeto molto pulita molto, vedrete qua, metto adesso le immagini quindi molto professionale cioè si sentiva di essere in una sala di persone che sanno, si sanno di quello che parlano con Alessandro che inizia che è lui che prende la mano e la parola che inizia a spiegarmi un attimino le caratteristiche le caratteristiche delle postazioni eccetera e senza influenzarmi assolutamente ed è questo che mi è piaciuto tantissimo anche di questa visita senza influenzarmi mi ha solo parlato delle caratteristiche dei vari accessori quindi pedaliera, volante eccetera eccetera mi ha parlato di che tipo di configurazione utilizzano per quanto riguarda i volanti di rail drive e piano piano mi ha portato a fare una scelta di quello che sarebbe stato l'accessorio che avrei scelto lo sapete benissimo per chi mi segue ho fatto un unboxing e ho scelto la P2000 ma come ci sono arrivato alla P2000? è vero che il colpo d'occhio è stato quello che mi ha assolutamente colpito e che ho detto questa è una pedaliera che vorrei a casa mia però non provarla non sapere eccetera è sempre complicato soprattutto perché comunque ha un certo costo lo potete vedere sul sito ufficiale una tre pedali costa 900 euro quindi non è che si spendono così e avere la fortuna di poterla provare e soprattutto confrontarla con un'altra pedaliera di un certo livello quindi la Invicta non è data a tutti e Arc Team mi ha dato questa possibilità e quindi anche per questo che li ringrazio perché oggi non sto aspettando di montare la mia pedaliera per sapere come reagisce se mi sento bene o meno so e quindi questa è una fortuna che non è data a tutti e quindi senza influenzarmi ho detto Fabri prova l'abbiamo sistemata così eccola provala con questo simulatore la proviamo anche con l'altro e poi vedrai la differenza con l'altra e tutto questo spiegandomi tutti i dettagli del funzionamento della pedaliera di quell'altra che l'altra simula l'apertura delle pasticche dei freni eccetera dando la sua opinione personale senza però venire a influenzare la mia cioè sono cose che ragazzi non hanno prezzo ed ecco perché io ho apprezzato tantissimo questa visita perché io non mi sento influenzato oggi non mi sento di dire beh ho scelto questa perché me l'hanno consigliata no l'ho scelta perché l'ho scelta cioè ho preso questa pedagliere perché è una scelta mia libera personale che ho potuto fare dopo un'esperienza e con un tecnico che ha avallato la mia scelta proprio in base alle mie esigenze ne parleremo di perché ho scelto questa e non la invicto piuttosto che un'altra ragazzi ne parleremo sto giusto parlando delle sensazioni che ho come cliente di Arc Team perché oggi sono cliente di Arc Team e di cosa mi è piaciuto di questa visita quindi parlando di infrastruttura logistica eccetera è stato bellissimo però quello che mi interessava è proprio il servizio e il servizio inizia da ti consiglio questo perché hai queste esigenze perché avrebbe potuto Alessandro spingere e dire prendi quella costa 300-400 euro in più ma perché c'è questa e questa invece no mi hai detto bravo Fabrizio l'hai trovato tu da solo ti consiglio assolutamente questa perché è proprio fatta per le tue esigenze quindi grazie Alessandro per questa questi consigli grazie Andrea anche perché è stato gentilissimo anche lui insieme ad Alessandro e comunque mi rimarrà questo ricordo di questa simpatia di questi due ragazzi che ci hanno accolto veramente a braccia aperte quindi ragazzi io non aggiungo altro potrei entrare anche in altri dettagli però sto facendo girare un po' i video proprio per farvi vedere c'era un clima veramente di simpatia reciproca veramente è stato un momento straordinario e se avete la possibilità perché passate da Fabrizio siete lì nei dittori di Pavia andate passate un colpo di telefono ragazzi posso passare c'è modo di sono delle persone disponibili sono dei professionisti sono persone veramente che vale la pena incrociare nella propria vita dopo queste belle parole ragazzi io spero che questo video dove racconto la visita al team che vi consiglio assolutamente vorrei ringraziare Mirko De Santis perché è lui che mi ha dato ancora una volta il consiglio vai vai a vedere Andrea la troupe perché sono brava gente e gente che ci sa fare con il mondo della simulazione vi ringrazio per avervi seguito lasciate un commento ditemi cosa ne pensate di questo video di questa visita un pollice in su se il video vi è piaciuto noi ci vediamo prestissimo perché ho ancora tante cose da raccontarvi da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao ciao